Musica Mannaggia, mannaggia Su, su Switch, switch Qui Ancora Twist Gli ultimi On, on Su, su Twist, twist Su, su Twist, twist Gli ultimi Su, su E stop Scendo Qui Mettiamo qui le gambe Salgo Twist No, twist no, niente twist Crunch Su Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Stop E Ritorno Qui Visto che non ho registrato Rifacciamo Sta caldo Sta caldo Si se vuoi Si Allora ci scaldiamo molto velocemente Con dei saltelli Leggeri Leggeri Destra e sinistra On Due Tre Quattro Cinque Sei Sei Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Al centro Qui On Due Tre Braccia morbide E questa volta invece di fare destra e sinistra Avanti e indietro Qui Qui On Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Ancora otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Ed ora Uno a destra Uno a sinistra Uno a mangi Uno indietro E On Due Avanti Avanti indietro O Due Avanti indietro E E Avanti indietro E E Avanti indietro O Due Avanti indietro Qui Qui Avanti O Due Avanti indietro O Due Avanti O Due Avanti E E Avanti ancora ancora un qualcuno e e e e passate sempre dal centro nel momento in cui dovete accordare destra e sinistra con l'avanti indietro ok come va addominali giù allora cosa facciamo? schiacciamo? che dite? schiaccio 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 ancora 10 9 8 7 palle rilassate 6 5 4 3 2 e 1 stop rimango qui scendo schiena a terra forbicio 8 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 stop rilasso giro giro e stretto freccio un salto su ma ne facciamo ancora una serie su non siete felici? ancora una serie non vi piace? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 5 6 6 8 ancora 8 7 6 5 6 6 7 7 8 8 11 11 12 11 12 11 12 13 13 12 13 14 15 15 15 16 16 18 19 19 19 20 22 22 22 21 21 22 21 22 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 28 29 30 30 30 30 25 25 25 26 27 30 30 30 30 32 31 32 32 33 33 33 34 35 35 36 36 36 38 37 38 40 40 40 40 41 41 42 42 31 41 42 43 43 43 44 44 45 45 42 Sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Mi fermo qui perché ci mettiamo al centro prima di girarci e facciamo dei walking crunch. Uno, su, due, qui, tre, qui, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E mi giro dalla parte opposta, qui. Come va? La Stefania è già partita, sappiatelo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Centro walking crunch, questa volta con tutto giù le gambe. Quindi, otto, giù, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Su, su, come va? Bene. Ginocchia, alzate, su, su, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E ancora otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Gli ultimi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Stop. Scendiamo. L'ultimo pezzettino. Poco poco. Facciamo l'arcobaleno. Che da un po' che non lo facciamo più. Qui, le gambette. Dobbiamo scendere da una parte, salire e scendere dall'altra. Non ci sto. Mi metto qui. Girata così, dovrei starci. Scendo, salgo e giù. E on. On. Cambio. Due. Qui. Tre. Esagerate. Aspettate un salto. Se mi metto così, esagero, ci sto. Ecco. Due. Partiamo dal due. Tre. Perché non ero posto io. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. E ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Rilasso. Come va? Benissimo. Non bene. Benissimo. E... Benveniamo. Ci sediamo qui. Mento al petto. Rottoliamo la colonna. Giriamo le spalle. Restiamo. E... Ancora uno. Su. E fare tutto giù. Grazie. Passo e chiudo. Ci scaldiamo. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Pallone al gluteo. E... Avanti e indietro. Con le braccia. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Cosa volete fare? Otto. Otto. Quanta fatica? Tantissima. Oggi stavo giusto pensando a un esercizio fantastico. Se volete fare. Quattro. Tre. Due. E... Uno. Su in avanti. Non senti le gambe? Meglio. Sì, sì. Meglio se non le senti. Che così almeno non si lamentano. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Braccia in alto. E salgo scendo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Cinque. Sette. Otto. Ancora otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Da qui. Skater. Però con tutte e due le braccia. On. Su. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Con energia e le braccia. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Cambio. Qui. Otto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Due. E uno. Cambio ancora. Charleston. Attacco. Punta. Continuando a piegare e piegare. Molleggio sulla gamba. Di terra. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Cambio. Non so voi. Ma mi sono già male le gambe. Non so perché. Due. Tre. Quattro. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Continuiamo a lavorare un po' i glutei. Alzando lateralmente la gamba. Solo una. Il peso rimane sempre sulla gamba di terra. Uno. Tre. Quattro. Sei. Otto. Otto. Sei. Quattro. Due. Continuo. Uno. Due. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Lato lato. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E che bruciore? Cambio gamba. Non bruciava? Otto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ce ne sono ancora otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Tutto bene? Sì. Ora. facciamo. Siamo caldi. Sì. Possiamo fare l'esercizio che volevo farvi fare? Dunque. Ci sediamo. Appoggiamo. Una mano. Lì. Qui. Salgo. Appoggio. Lì. Aspettate. Facciamo il contrario. Che è più facile. Scendo. Appoggio. Ok. Sì. Lì. Però voglio anche questo salgo. È importante. Questo salgo. No. Non salgo di più. Salgo così. D'accordo? È molto importante quel salgo. Salgo posto. Cominciamo a scendere. Poi pensiamo a salire. D'accordo. Scendo. Appoggio. Lì. Qui. Salgo. E lì. Qui. Salgo. Salgo. Su. Tre. Su. Quattro. Su. Cinque. Su. Sei. Su. Sette. Su. Otto. Ce la facciamo altri. Otto. Poi basta. Otto. Su. Qui. Sette. Sette. Sei. Cinque. Chi va via? La Tania. Quattro. Tre. Due. E uno. Ok. Avete capito perché era molto importante il salgo. Quarta. Quarta. Quattro. Ah no. Rimani giù. Tanto. Due. Arriviamo. E uno. Qui. Scendo. Appoggio. Stacco. Qui. On. E. Due. E. Tre. Quattro. Cinque. Cosa succede? Sei. Sette. Siamo quasi in metà. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. quattro. Tre. Due. Uno. Bello, vero? Mi è venuto in mente oggi. Eh sì, eh. Ora. Andiamo avanti nel nostro percorso con le gambe. Abbiamo fatto lavorare degnamente i quadricipiti. Ci mancano femorali e glutei. Li facciamo col tappetino. Prenda il tappetino. A terra. Qui. Allora. Premorali. È da crampo, eh. Punto i talloni. Salgo. Scendo. Otto. Questo no. Quello dopo è da crampo. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. e uno. E uno. Mantengo qui. Tacco un piedino. Mantengo il tallone a terra. Salgo. Scendo. On. Se volete potete anche mantenere dritta la gamba. È che peggio. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Stacca la gamba. Un. Due. Tre. Quattro. Stacca la gamba. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Rilasso. Un salto. Come va? Ci giriamo su un lato. Allora. Gambetta rivolta verso l'alto. Incroce l'avanti. Incroce indietro. Avanti. Indietro. Avanti. Indietro. Uno. Lì. Due. Dietro. Tre. Piedi in alto. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Introduciamo una variante. Qui tocco col ginocchio. Giro. Tocco, tocco il tallone. Ginocchio. Tocco il tallone. Uno. Lì. Due. Qui. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Divertente questo. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Due. E uno. Finisco. Semplicemente con apri e chiudo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ma non è finita. Mi metto in ginocchio. Testa gambetta. Tendo. O. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Sette. Due. E uno. Cambio parte. Qui. Non serve recuperare. On. Perché cambia gamba. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Ruotiamo. Tallone. Ginocchio. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Qui. Semplicissimi. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei. Otto. Otto. Sei. Sei. Cinque. Mi fa male? Tre. Due. E uno. Mi giro. Quattro zampe. Vado. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Sì la terra perché mancano gli adduttori. Vogliamo fare gambe? Mancano loro. Apro e chiudo semplicemente. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E andiamo avanti. Otto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. due. E uno. Stop. Ginocchia al petto. Dondolo. E salgo. So. Come va? No. Passo e chiudo. Io direi di fare ancora un po' di addominali. Che dite? La stessa è sempre pronta per gli addominali? Quattro. Tre. Due. Però gli addominali sono sempre pronti, eh? Indipendentemente da tutto. Quattro. Un po' di addominali. Uno. Un po' di addominali. Uno. E uno. Allora. Da qui. Facciamo torsione. Tocco la gamba. Torsione da una parte e torsione dall'altra. O. Qui. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Tenete il ginocchio leggermente piegato, eh? Di terra. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Contrario. Quattro. Tre. Due. Uno. Cambio parte. On. Lì. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ora, alterno. Uno. E uno. Uno. Ma è facile. Mano opposta alla gamba. On. Due. Tre. Con la torsione è quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Iniziamo a fare gli addominali da in piedi e poi andiamo a terra. Otto. Sette. Torsione. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. qui. Fletto. Con il braccio. On. Qui. Sempre la stessa parte. Due. Tre. Dopo la torsione ci mettiamo la flessione. Cinque. Sei. Più giù possibile. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Cambi parte. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Cinque. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Così abbiamo richiamato il lavoro delle gambe. Continuiamo da in piedi con un crunch. Però se avviciniamo il ginocchio al petto, avviciniamo anche il petto al ginocchio. Quindi, giù. Qui. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Cambio. On. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop! Andiamo a terra. Andiamo a terra. E facciamo. Sì, sì. Niente. Allora. Da terra. facciamo questo, che mi era piaciuto da morire. Da push up, anzi, da giù in verità, avambraccio appoggiato a terra, ci alziamo in plank. Su. Siamo qui. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E scendiamo. Comodamente. Il tutto per 16 volte. Va bene. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Giù. E siamo due. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo tre. La chicca mi ha detto sedici, andava bene, non so. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo quattro. Vado. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo cinque. Vado. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. Siamo sei. E vado ancora. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo sette. Sei sicura che vuoi fare sedici? On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo otto. Trezzo. So che la chicca ne voleva fare sedici. Se volete, cambiamo esercizio. Se no, se volete fare gli altri otto, li facciamo. Provi. Guarda chicca che la Daniela ti segua. Ti segue, ti segue. Andiamo. Allora, va bene. Io mi sarei fermata qui, però va bene. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo uno. Vado. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo due. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo tre. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo quattro. On. Due. Tre. Quattro. Cinque. E siamo cinque. 1, 2, 3, 4, 5, e siamo a 6 1, 2, 3, 4, 5, e siamo a 7 1, 2, 3, 4, 5, e siamo a 8 Kika, va bene così? Non ne vuole una serie ancora Dimmelo, va bene, va bene, voi ne volete una serie in più o vi baso? Va bene, d'accordo, allora ci mettiamo seduti semplicemente scendo, rush and twist, rush and twist e salgo E da una parte e dall'altra E 1, e 1, 2, 3, 4, 4, 5, e siamo a 7 6, 7, 8 Adesso non possiamo farne che altre 8 Perché se no, 16 prima e 8 adesso, no 2, poi con questa musichetta 3, 4, 5, 6, 6, 7, gli ultimi due, anzi l'ultimo in verità, stop e schiena a terra, gli ultimi, cosa facciamo? Piedi sollevati da terra, tocco con i talloni, il pavimento e salgo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi da qui, talloni e talloni, ginocchio al pezzo, torno, 90 gradi, 1, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ora talloni a terra, ginocchio al pezzo, 1, su, 2, 3, 4, 5, Fermatevi pure a terra, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mi fermo, mi fermo qui, prendo con un braccio, due gambe, una mano, o anche solo una, una mano dietro la nuca, crunch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, sette, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2 e 1, cambio gamba, cioè cambio appoggio le braccia, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e uno stop. Rilasso, traccia larghe, appoggio i piedi a terra, scendo con le gambe a sinistra, testa a destra, centro, cambio. Cambia a destra, testa a sinistra, centro, ginocchio al petto, dombolo con la schiena e mi chiedo. Come va? Benissimo! Mi chiedo qui, mento al petto, rotolo pian pianino la colonna, giro le spalle, retterone. E giù, ancora uno, su, e fuori tutto giù. Braga!